Oh, guarda che adesso mi squalificano, un bel 3 a 0 a Tavolino. Alla fine sì, però si sta perché, perché quella fuori sul 3 a 1, a volte non importa, gli ultimi 25 minuti hanno capito un cazzo. Sì, è bloccato, quando è 3 a 1, ha capito un cazzo, capito? Quando è sottoggioccato? Quando è sottoggioccato, quando è sottoggioccato, quando è sottoggioccato, la 1 e poi è sottoggioccato. Ah sì, è meglio. Perché ti dà la possibilità, perché sul 3 a 1 una squadra si sente già il risultato e dice, boh, vai, quindi pressa meno, è quello. Ma come così ha, cioè ci va bene che l'Inter ha attacco, torta, c'è tanto, dipende un po' di meno. Sottoggio, c'è tanto, dipende un po' di meno. Sottoggio, c'è tanto, dipende un po' di meno. Non è che c'era no. Sei po' di meno. Sottoggio, c'è tanto, dipende un po' di meno. Non è pare alla due. Dai in porta, non è in porta. Fuori! È là. Vai! 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 E' un passaggio, il bottiere. E' un passaggio. 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 e un passaggio. E' 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 un passaggio. e un passaggio. E' 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 un passaggio.